è stata una bella rimonta e abbiamo subito l'1 a 0 con un rigore dubbio perché a mio parere non c'era assolutamente e poi va bene non abbiamo mollato e negli spogliatoi a fine primo tempo ci siamo detti che volevano recuperarla e ce l'abbiamo fatta poi ho messo l'assist dell'1 a 1 dopo l'1 a 1 si è capito che ce l'avremmo fatta e infatti abbiamo fatto subito 2 a 1 e 3 a 1 sei in continua crescita errori di gioventù come è successo ad Arfo che ci sta in cosa puoi ancora migliorare? Secondo me posso migliorare soprattutto nella fase difensiva poi vabbè c'è sempre a migliorare in qualsiasi campo l'errore di Darfo credo che mi sia servito molto e vabbè i compagni mi hanno aiutato molto il mister mi ha dato ancora fiducia e niente io continuo a lavorare per migliorare sempre. E' arrivato in 5 dal 99 in campo è sembrato di essere ancora alla finale di Forte dei Marri. Sì infatti pensando è stata proprio una bella esperienza perché vedere c'è essere in campo con molti ragazzi che hanno fatto l'anno scorso l'annata con l'Ignores con me mi è piaciuto molto. E per il futuro potrà essere una virtù fatta in casa? Sì speriamo sarebbe bellissimo diciamo poi vabbè vincere l'anno scorso e avere la possibilità di giocare ancora tutti insieme quest'anno è una grandissima occasione spero di di poter continuare con tutti i ragazzi con cui ho vinto l'anno scorso. Ovviamente non dobbiamo montarci la testa perché ogni partita c'è la sua come abbiamo visto oggi che poteva andare peggio di comandata e andremo là per vincere per fare tre punti.